Il nuovo comune a Montecchio è in via Piola Torre, a fianco alla Casa della Salute, alla palestra e alla Scuola Federico da Montefeltro. Sono a buon punto i lavori, c'è già lo scheletro in legno, a giorni dovrebbero iniziare a montare la copertura e poi diciamo che entro l'anno, la primavera prossima, dovremmo poter iniziare ad utilizzarlo. Abbiamo avuto anche fortuna sia per il teatro che per il comune di aver fatto tutti gli appalti prima perché oggi come si sa con la scarsità delle materie prime e l'aumento dei prezzi sarebbe stato un bel problema. Quindi speriamo di poter razionalizzare perché oggi abbiamo quattro sedi per la verità, Sant'Angelo e Lissola col bordo dove rimarranno alcuni uffici soprattutto per le persone più anziane e Montecchio e Morciola. Quindi abbiamo necessità di rendere più funzionali, di contenere i costi e di avere una struttura dove ci sono quasi 13.000 persone che oggi sono costrette ad andare nelle colline e quindi avranno nuovi servizi importanti e poi quando uno va in comune, va alla Casa della Salute, va in palestra, fa tutte le attività, va a scuola, concentrato in un luogo centrale come è Montecchio. Oramai sempre più via Piola Torre è il luogo dove gravitano diciamo un po' anche le altre realtà, gli altri comuni confinanti perché ci sono lì almeno 20-30 attività diciamo commerciali, c'è la Casa della Salute, c'è una palestra, ci sono le scuole, ci sono tutta una serie di attività anche private, le farmacie, le cose insomma che consentono anche quelli di passaggio che vanno su la vallata del Foglia lungo la Fogliense, la viabilità che è diventata statale e comunque tutti quelli che gravitano per lavoro, per attività diciamo commerciali ma anche per la spesa dei supermercati diventa un luogo centrale tant'è che stiamo pensando di rifare a fine novembre probabilmente anche la mostra a mercato dell'olio extravergine d'oliva, del tartufo, del melograno e forse anche dei funghi perché sono tutte attività e tutti i prodotti che ci sono anche a Valle Foglia.